Stamina del prete, se ce l'abbiamo uno, ho sempre messo che c'è. No, non ce l'abbiamo il prete. Sono un prete di nome Filira? Mamma mia, eppe! Vabbè, se prima che finisca il boss fai Stamina, ne siamo messi. L'ho fatto già, cinque minuti fa! Mamma mia! Restiamoci! Schivare! Marche per la destruzione! Iniziamo! No! Rarmi! 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 for destruction burn to cinders surround our enemies leave none alive questo qua attimo dietro molto bene come sempre ok grazie a tutti